che tra un po' commenteremo per lo sport, una settimana che si è chiusa quindi abbastanza bene perché è andata bene al calcio, perché la squadra di Del Neri ha pareggiato contro il Chievo Verona una partita non semplice, mai facile giocare al Bente Godi contro il Chievo, un punto a testa uno 0-0 che permette di muovere la classifica e di allungare a quota 29 è andata molto bene alla palacanestro perché la GSA ieri sera ha battuto Roseto e a questo punto può sognare anche l'accesso ai playoff, una grande prestazione ieri quella di Alan Ray e compagni sul parcheggio del palazzetto di Cividale, ancora prima sabato anche le ragazze di coach Medeot della Delser hanno battuto Ferrara quindi anche per il basket femminile, una vittoria è andata male purtroppo per il Pordenone perché ci aspettavamo ieri un bel risultato da parte dei Ramarri, a un certo punto tutti abbiamo creduto alla vittoria ma è arrivata una folia nei minuti finali, in particolare quella che ha negato almeno un punto al novantesimo con il Parma che poi ha vinto 3-2 ma vedremo nel dettaglio sfogliando i giornali che cosa è successo al Tardini per un Pordenone che pur uscendo sconfitto ha comunque dimostrato di essere una squadra attrezzata per lottare con il Parma, con il Venezia, con il Padova, con la Reggiana, queste squadre che vanno per la maggiore nel girone B della Lega Pro dove il Pordenone dovrà sgomitare per trovare fino al termine della stagione lo spazio per lottare per una promozione diretta o quantomeno andare ai playoff comunque con una posizione di favore rispetto alle altre. Ma andiamo con ordine, allora cominciamo dal Messaggero Veneto, dalla prima pagina per vedere che cosa riporta quanto a notizie sportive di Spalla, un richiamo all'inserto sport del lunedì emozioni zero ma un punto arriva, la fotografia della partita del Bentegodi finisce 0-0 in basso vedete un duello tra Zapata e Cesar che poi è stato espulso, uno dei duelli più interessanti dal punto di vista fisico della partita di ieri, poi in basso Palacanestro Serie 2 vittoria 79-67 per la GSA contro Roseto GSA che adesso sogna i playoff, un'altra vittoria importante in regione sempre per la Palacanestro quella dell'Alma Trieste che ha vinto contro la Fortitudo Bologna andando ad agganciare Treviso in classifica e sognando a sua volta la promozione in Serie A1, quindi davvero una giornata eccezionale per quanto riguarda lo sport in Friuli Venezia Giulia. Qui siamo sulla prima dell'inserto sportivo, un tiro un punto ecco l'Udinese al Bentegodi in Verona con il ritorno di Del Neri contro il Chievo, la partita non regala emozioni qui vediamo un virgolettato di Del Neri, voglio continuità dalla squadra, mi va bene così ancora qui un duello aereo questa volta con Samir, protagonista con Birsa e si riconoscono alle spalle Terò, Zapata e sul fondo anche Gamberini continuando con il calcio, Terò onesto, gara bloccata, pareggio giusto e ancora le pagelle, ok Alfrezzone e Danilo, Spenti, Zapata e Terò, questo è il giudizio del messaggero Veneto qui invece vediamo Alan Ray, grande prestazione anche la sua, ieri la GSA vendica Roseto con un grande Ray terza vittoria consecutiva dell'Apo a Cividale, ieri l'americano si riscatta, ottimi Ferrari e Traini, ancora ottimo il contributo di Osman e Diop che ha anche messo a segno la prima tripla della sua giovanissima carriera. Il match clou della giornata di ieri nel calcio era sicuramente Juventus-Inter, definita con la vittoria della Juventus 1-0 grazie al gol di Quadrado, la sfida è stata emozionante con l'Inter che non ha certo demeritato, avrebbe meritato probabilmente anche di portare a casa un punto e comunque la Juventus si conferma una macchina inarrestabile. Chiudiamo con la parte relativa al calcio sull'inserto sport del messaggero, andando a leggere tutti i risultati, la giornata non si chiude ancora perché è prevista domani in Roma-Fiorentina alle 20.45, uno spezzatino che allunga fino a martedì la chiusura della giornata di Serie A, per il resto i risultati sono questi, Atalanta batte Cagliari 2-0, a Bologna Napoli batte Bologna 7-1, Chievo-Udinese è stato l'unico 0-0 di giornata in attesa di scoprire il risultato di Roma-Fiorentina, poi Empoli-Torino 1-1, il Sassuolo ha vinto a Marassi contro il Genoa 1-0, la Juventus ha battuto l'Inter 1-0, ancora un 1-0 della Sampdoria a Milano contro il Milan con rete del nostro ex attaccante Muriel su rigore, poi il Palermo con l'ennesimo 1-0 della giornata batte il Crotone in uno scontro fra squadre che sono messe molto male in classifica, il Palermo si riavvicina un po' alla zona salvezza ma siamo sempre su distanze difficili da recuperare. a Pescara, la Lazio ha battuto Pescara per 6-2 e quindi domani il match tra Roma e Fiorentina che chiuderà la giornata. La classifica la vedete, la Juventus allunga, quota 54 più 6 in questo momento sul Napoli ma con una partita ancora da giocare contro il Crotone, quindi si può tranquillamente ipotizzare un più 9 in questo momento sulla seconda e con la Roma che deve ancora giocare la sua partita contro la Fiorentina, quindi il duello tra Roma e Napoli per il secondo posto continua, probabilmente continuerà fino al termine della stagione con la Lazio possibile outsider e perché no anche l'Inter che ha quota 42 insieme all'Atalanta, una squadra che in ogni caso con la cura Pioli si è ripresa brillantemente dopo 9 vittorie consecutive, sono arrivate però due sconfitte, una in Coppa Italia proprio contro la Lazio che vediamo lì al quarto posto ed una in campionato ieri contro la Juventus. L'Udinese e il Chievo sono a quota 29 superate dalla Sandoia che le ha ricacciate nella parte destra della classifica ma le distanze verite sono davvero minime dai 29 di Chievo e Udinese ai 32 del Torino, più staccate Fiorentina e Milan e le altre che sono davanti. Zona retrocessione dicevamo del Palermo che ha battuto il Crotone e quindi si è parzialmente ravvicinato, lo ha scavalcato il Crotone, il Palermo ha quota 14 ma sono sempre 8 i punti di differenza dall'Empoli, non impossibile una rimonta del Palermo così come una del Crotone, è più difficile ipotizzare una del Pescara ma l'Empoli è una squadra tosta, solida e 8 punti sono davvero complicati da poter recuperare anche se il Palermo ha il dovere e le altre finché la matematica non le condanna, hanno il dovere di crederci. Andiamo a vedere della Lega Pro, Pordenone beffato a Parma, rimontato è KO, qui invece vediamo nel campionato di eccellenza la Gemmonese riparte e consolida il secondo posto, ha avuto un attimo di appannamento alla formazione di mister Pittilino, tra un po' ne parleremo con Gigi Lanzilli, con Davide Zanirato e gli altri ospiti dall'edicola di Cussignacco che è la nostra centrale operativa dei commenti per il calcio direttantistico ogni lunedì. Scinnordico, Cristina Pittin, Argento Iridato Junior, Settimi del Fabbro e Coradazzi, questa la prima pagina dell'inserto sport del Messaggero, adesso andiamoci a vedere gli highlights della partita di ieri, il commento di Fernando Siani sul match del Bentegodi, un match che è stato avaro di emozioni, che ha prodotto nel finale un timido forcing dell'Udinese che ha reclamato per un calcio di rigore, ha sfiorato il gol con Alia Denan, poco altro in questa partita che comunque permette di allungare la serie positiva dopo il successo contro il Milan e di muovere ancora la classifica. Vediamo. La ventitresima giornata del campionato di Serie A mette di fronte Chievo Verona e Udinese, una trasferta insidiosa per i bianconeri che vengono dalla bellissima vittoria in casa contro il Milan, ha piovuto tantissimo sul terreno del Bentegodi, è un campo pesante, campo che ovviamente non favorisce lo spettacolo. Gigi Del Neri conferma, i stessi undici che hanno battuto il Milan, nessun problema di formazione anche per quanto riguarda Maran c'è in campo. Riccardo Meggiorini insieme a Sergio Pellissier per Del Neri, è un po' un ritorno a casa perché è lui l'allenatore di quel Chievo dei Miracoli che sfiorò lo scudetto nei primi anni 2000. Chievo Verona che prova subito a lanciarsi in avanti con questa incursione di Sergio Pellissier, il più anziano in campo, dimostra sempre di essere un vecchio lupo dell'area di rigore, qui anticipa tutti ma non trova la porta, rivediamo ancora una volta lo stacco di testa di Sergio Pellissier. È una partita poco spettacolare, molto molto bloccata, le squadre provano anche la soluzione dalla distanza, qui è Rigoni che in qualche modo arriva a liberare il destra. La soluzione però si rivela davvero poco soddisfacente. L'Udinese allora prova a rispondere con questo calcio d'angolo, la sfera arriva da Jakub Biancto che in condizione di tiro precaria libera il sinistro ma non trova la porta, nessun pericolo per Sorrentino. Le telecamere indugiano su Jakub, Kuba Janto che si sta prendendo sempre di più i galloni da titolare, sembra oramai imprescindibile per Gigi Delneri. Nella seconda frazione succede poco altro, l'Udinese prova a farsi vedere in avanti, qui è il Lechievo che cerca l'incursione, c'è però la chiusura di Capitan Danilo, nessun pericolo per i bianconeri. Nel corso di tutta la partita l'Udinese avrà delle chance con il passare dei minuti, qui è Terò che prova a liberarsi sulla sinistra, l'ex di turno si accentra, l'appoggio è per Alfredson, il suo tiro sbatte sulla schiena di un difensore del Chievo e finisce in corner, anche per Alfredson si tratta di una sorta di derby. Su questo calcio d'angolo Zapata stacca da solo e non trova la porta, è l'occasione più grande della partita per l'Udinese, Dovan Zapata si dispera, Gammerini a terra reclamando un fallo che però l'arbitro non aveva fischiato, rivediamo ancora una volta lo stacco di Dovan Zapata che poteva sicuramente fare meglio. Chievo Verona che qui cerca di sorprendere l'Udinese, la sfera arriva nella zona di Sergio Pellissi e esce benissimo, Carnezis l'unica volta in cui viene chiamato in causa in tutti i 90 minuti risponde presente Oressis Carnezis che sfruttando anche il terreno bagnato del Bentegodi esce molto molto bene, l'Udinese allora prova ad andare via con Depol sulla destra, la sfera in qualche modo arriva di nuovo nella zona di Terò, anche qui però coordinazione precaria, tiro non perfetto per Cyril Terò. Il francese ha cercato più volte la porta di Sorrentino senza però riuscirci. Udinese che allora prova ancora una volta la soluzione da calcio da fermo, questa volta stacca Samir la sua incornata, termina alta, il difensore brasiliano è stato autore di un'altra buona partita, oramai la retroguardia verde oro, Danilo, Felipe, Samir sembra essere davvero una certezza. Udinese che col passare dei minuti cerca di farsi vedere in avanti, qui viene espulso Cesar, autore di una partita molto molto cattiva, molto fallosa, il difensore del Chievo entra malissimo su Ridermatos, simula poi anche lui un infortunio, non inganna l'arbitro che lo ammonisce per la seconda volta, cartellino rosso, Chioverona che termina in dieci la sua partita, l'Udinese di nuovo ci prova sempre con Alfredson, la palla arriva nella zona di Ali che cerca il pallonetto, Sorrentino si supera, grandissimo intervento, salva risultato di Stefano Sorrentino, Ali Adenan ha rischiato di trovare la prima rete della sua stagione, colpo di testa preciso, anche intelligente, bravo però Sorrentino a distendersi. L'ultima emozione di una gara che di emozioni ne ha vissute davvero pochissimo, Udinese e Chievo Verona salgono a 29 punti in classifica. E allora 29 punti per Udinese e Chievo, in prospettiva Udinese ha davanti la Fiorentina, poi il Sassuolo in casa e sarà una giornata incredibile perché alla Dacia Arena arriverà Zico per la prima volta nel nuovo stadio, abbiamo annunciato sabato in conferenza stampa con il direttore generale Franco Collavino questa iniziativa in collaborazione con il club di Orsaglia che ha mantenuto in questi anni i contatti molto molto stretti con Zico, con il Galigno e quindi sarà davvero una grande giornata, sarà una grande giornata di festa sugli spalti per la presenza di Zico e speriamo naturalmente anche in campo con una bella vittoria dei bianconeri. Allora siamo pronti per collegarci con la Polizia Municipale e con la Polizia Locale per le informazioni sul traffico, buongiorno. Buongiorno a voi. Com'è la situazione questa mattina? Vice Ispettore Sandro Favotto con noi in linea. Buongiorno. Sì, buongiorno di nuovo. E allora sulle principali vie di accesso alla città la situazione diciamo del traffico risulta al momento regolare e non si segnala alcun tipo di inconveniente, è sempre un momento ovviamente. Stante la pioggia la situazione sembra essere scorrevole in questo momento, vediamo alcune immagini delle strade della città di accesso al centro, tutte libere, quindi nessun problema. Io ringrazio il Vice Ispettore Sandro Favotto per queste informazioni. Grazie e buona giornata. Buona giornata a voi. Ecco, potete vedere ancora scorrendo le immagini che non c'è alcun problema. si transita tranquillamente lungo le strade, le arterie che collegano la periferia al centro. Tra un po' ha già iniziato, forse anche già concluso il traffico delle auto che vanno verso le scuole, con i genitori che accompagnano i propri figli, quindi nessun problema. Tra un po' andremo a Cussignacco da David Zanirato per un primo collegamento di questa mattina per parlare del calcio dilettantistico con Gigi Lanzilli e scopriremo quello che è successo, dando un'occhiata anche ai risultati. Forse David è pronto già per collegarsi per un primissimo collegamento con Gigi Lanzilli da Cussignacco, direttamente dalla sua edicola. A voi la linea, buongiorno. Buongiorno Francesco, buongiorno Friuli da Cussignacco, dunque siamo al nostro amico Gigi, pronti per analizzare il weekend sportivo in Friuli Venezia Giulia e non solo, partendo proprio dall'Udinese, da questo derby del nord-est col Chievo. Un punto che deve essere visto come un bicchiere mezzo pieno? Beh, ieri onestamente abbiamo giocato contro una squadra veramente difficile da affrontare. Infatti in sette giorni prima aveva vinto 1-0 con la Lazio. Una squadra che si difende, molto esperta, penso che sia la squadra più esperta di Serie A. Tutti i giocatori navigati. La difficoltà nel riuscire a fargli il primo gol, perché poi se riesci a sbloccare la partita gliene fai altri due. Però l'Udinese, anche ieri si è visto che non è una squadra abituata a fare la partita, non ha giocatori tecnicamente che possono prendere in mano una situazione. Anche se secondo me l'Udinese meritava, gli era giocato meglio del Chievo. Si continua a vedere comunque anche una buona crescita del reparto difensivo? Sì, beh, io sinceramente Samir, Felipe, Danilo e Widmer con il portiere è una squadra da primi 6-7 posti della Serie A. Una linea difensiva con il portiere veramente forte dell'Udinese. Il problema è davanti. Abbiamo difficoltà a far gol, perché si crea, ci sono anche ieri tanti calci d'angolo, tante punizioni laterali, ma non abbiamo mai nessuno che riesce ad avere quel guizzo. Faccio un esempio, come il Torino con Bellotti. Ora si va a Firenze. Sabato potrebbe essere la squadra stile Milan, che lascia giocare l'Udinese e quindi l'Udinese può colpire. Sì, la Fiorentina è una squadra un po' particolare. Quest'anno ci ha abituato a partite. ha fatto 3-3 con il Napoli. È una squadra che può vincere e perdere con chiunque, perché comunque secondo me dietro loro ballano tanto. Poi senza Gonzalo Rodriguez si vede i limiti difensivi. Però è una squadra che se gli gira tutto bene ti può fare anche 4 gol, perché ha un potenziale davanti da primi 4-5 posti in Serie A. Grazie, grazie a Gigi. Lo ritroveremo tra poco per vedere come è andata anche la giornata nei campionati dilettantistici. A te Francesco. Grazie, grazie David. Giornata dei campionati dilettantistici che ha visto soltanto un incontro in eccellenza non disputato a causa del maltempo, quello tra Union Pasiano e Lumignacco. Per il resto si è giocato dappertutto. Quindi i campi hanno retto bene. A Verona si parlava anche di un campo particolarmente pesante. Ritorniamo a Verona con le pagine del Messaggero Veneto per leggere ancora qualche titolo. Udinese un pari e zero emozioni. Finisce senza reti la trasferta sul campo del Chievo. Di Adenan l'unica conclusione pericolosa della partita che abbiamo visto poco fa negli highlights. Il colpo di testa che Sorrentino ha alzato provvidenzialmente oltre la traversa evitando al Chievo la capitolazione. Segnaliamo anche che prima della partita, ma lo avete visto, che ha seguito Udinese TV ieri dalle 13.30, quindi con l'inizio della nostra trasmissione anticipato di mezz'ora proprio per dare spazio ai tifosi, ai tanti tifosi che da Udine sono partiti alla volta di Verona e si sono incontrati con i tifosi del Chievo con i quali c'è un bellissimo gemellaggio per pranzare insieme e poi andare insieme allo stadio. È finita in parità su tutto, quindi una giornata almeno da questo punto di vista che è stata sicuramente una festa dello sport, una festa dell'amicizia e l'abbiamo documentata su Udinese TV con collegamenti in diretta proprio dal luogo dove i tifosi si sono riuniti per pranzare insieme, tanti bambini presenti a questo momento di unione tra le due tifoserie e poi allo stadio, è davvero tutto molto bello, meno bella la partita comunque è arrivato un punto, come dicevamo, che fa bene ad entrambe le squadre che muovono la classifica e si ritrovano ancora a braccetto a quota 29 anche se con la vittoria della Sampdoria la classifica riporta Chievo e Udinese nella parte destra ma davvero siamo a questioni di pochissimi punti per poter tornare dall'altra parte e sperare poi di rimanerci in pianta stabile fino al termine della stagione. Allora se abbiamo la possibilità di ascoltare Gigi Delneri andrei a sentire le parole del mister rilasciate ieri in zona mix a Stefano Giovampietro dopodiché ci fermiamo un attimo con un breve break pubblicitario e torneremo per continuare dalla segna stampa ma anche insieme ad Angela Caino per darvi tutte le informazioni, tutte le news, gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo via web. A tra poco. Mister, partita molto fallosa in tutti i sensi con un campo ai limiti della praticabilità a uno 0-0 che è stato difficile da sbloccare. Ma ha avuto qualcosina noi per poter finalizzare meglio qualche situazione. Diciamo che il campo non ha permesso grandi giocate. Poi è stata la partita massica, ha giocato contro una squadra fisica e quindi è stato un combattimento abbastanza intenso e devo dire che il pareggio è giusto per quello che ho visto io. Possiamo migliorare però dare continuità in questo momento per noi è importante e quindi come è avvenuto non è che mi interessi molto. La squadra che nel secondo tempo ha dato anche maggiore pressione al Chievo-Verona anche con il colpo di testa di Alia Adnan, alla fine ai punti l'Udinese qualcosa in più ha fatto vedere? Nel secondo tempo mi ha fatto circa 20 cross, ha fatto 20 cross, ha fatto del calci d'angolo, ha fatto punizioni, ha tirato la limite, sbagliando ma oggi mi ha tirato più di volte la limite oggi che in altre partite. Quindi se vede una partita in questo senso qua è stata buona. Si può fare meglio in qualche situazione, uscire poi con più piglio energico in qualcuno, però la squadra ha dato tutto in campo quello che aveva, quindi oggi non volevamo perdere la partita come Empoli, insomma questo è il senso, perché poi capita con il calcio di punizione, buttano dentro, fai gol, essere lì fermo, è stata una partita lottata. Che qualche partita è stata fatta così, con grande intensità, verrà in tempi migliori per poter esprimersi meglio, ma noi abbiamo già dimostrato di potersi esprimere meglio. La squadra non ha mai giocato anche oggi nella cultura della visione. La squadra ha creato parecchie situazioni importanti, al primo tempo con Tepol, due o tre pali importanti, poi ha sbagliato il corso, ha sbagliato l'anticipo, ha sbagliato altre cose, però la squadra secondo me ha prodotto bene, con meno precisione in altre volte, con più intensità agonistica da parte loro, che ha così spezializzato la partita e ha fatto sì che la partita fosse un po' meno bella di quello che è stata.